buongiorno a tutti e bentornati qua sulla nostra galassia prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video è un po' in realtà che non faccio qualche video per il semplice fatto che ci stiamo avvicinando alle 3 mancano veramente pochi giorni e quindi tutte le case tutte le news che stanno uscendo sono tutte riguardanti le 3 e che cosa andremo a vedere durante le 3 quindi di news vere e proprie non ce ne sono se non che è uscito Duntless finalmente fuori dalla beta decisamente molto più ben sviluppato di quando noi giocavamo in beta e in alpha ma non ci sono in realtà novità importanti per quanto riguarda i titoli che sto seguendo bisogna realmente aspettare le 3 per avere delle news vere e proprie qualcosa di cui parlare durante le settimane a venire ricordo a tutti tra le altre che domani uscirà il nuovo trailer di Death Stranding e quindi dovremo in teoria iniziare il supporto per quel videogioco visto che Slade il mio collega di youtube colui che fa le live in questo momento lo sta aspettando come se fosse oro e di conseguenza ci giocherà tipo miliardi di ore 25 miliardi di giorni e di conseguenza dovremo iniziare a parlarne realmente ma oggi siamo qua a parlare un po' di cyberpunk cyberpunk sta iniziando veramente a buttare praticamente fuori news ogni giorno news in realtà totalmente inutili perché riguardano tutti le 3 e sul fatto che alle 3 ci sarà probabilmente un mega evento che riguarderà cyberpunk 2077 e che le demo e tutto quello che faranno vedere durante l'evento delle 3 comprensivo al colusium non si potrà giocare quindi gli utenti non potranno metterci le mani sopra non si sa perché questa scelta plausibilmente non hanno voluto buttare una demo fuori per non rovinare comunque una buona parte del gioco o comunque anche una piccola parte del gioco se così fosse direttamente di cyberpunk e quindi ci atteniamo a quello che CD Projekt vuole fare comunque è uscita una news riguardante le mod perché come tutti ben sappiamo in questi determinati tipi di giochi come lo era The Witcher 3 come sarà probabilmente cyberpunk le mod fanno comunque una buona parte della community o meglio fanno fanno sì che la community o comunque una buona parte della community resti e rimanga a giocare su quel determinato titolo e quindi comunque porti degli incassi e attenzione sia sulla casa produttrice sia sul gioco stesso e sul titolo stesso come ovviamente per The Witcher 3 che le mod e di conseguenza il supporto alle mod è uscito ben dopo il suo lancio in questo caso adesso attualmente ci sono ma all'uscita di The Witcher 3 non c'erano CD Projekt sta facendo la stessa identica cosa dicendo che al lancio di Cyberpunk 2077 non ci saranno il supporto alle mod quindi di conseguenza la community non potrà costruire le mod sopra il gioco ma è plausibile che se la community e questo è stato detto direttamente da CD Projekt se la community le richiede abbastanza e quindi ci sarà un gran numero di richieste per quanto riguarda l'introduzione di supporto alla mod questa cosa avverrà chiaramente il supporto alle mod non viene rilasciato per il semplice motivo che essendo Cyberpunk 2077 un gioco per questa generazione e stiamo parlando di console non di pc ovviamente e che quindi deve girare su determinate macchine che saranno sicuramente inferiori alla next gen non vogliono che le mod vadano ad inficiare queste attuali macchine che magari risulterebbero rallentate o comunque farebbero fatica a far girare le mod su Cyberpunk 2077 bene questo è il motivo principale che CD Projekt ha deciso di usare per spiegare l'assenza del supporto alle mod e nel frattempo noi dovremmo comunque aspettare l'E3 che ormai ripeto si trova dietro l'angolo e vedere realmente che cosa ci diranno durante la conferenza si spera ci sono sempre più rumor sul fatto che daranno una data di uscita io non ne sono assolutamente convinto e vedremo un po' il da farsi comunque con questo è tutto noi ci vediamo alla prossima news e al prossimo video se non direttamente alle 3 visto che oramai è qui alle porte e di sicuro di news prima delle 3 non ce ne saranno molte bene GG a tutti quanti grazie a tutti